E' proprio nuova, allora c'è D'Alema che incontra Bertinotti, Bertinotti lo guarda e gli dice ma sai Massimo che hai una brutta faccia, cosa ti è successo? Ma che è successo? Sei proprio triste, eh sì, che è successo? E' morto Berlusconi, ma no, sì, oh che peccato, sì, tutto sommato era ancora giovane, era anche abbastanza simpatico, sì l'ho detto anche in televisione, ma come è successo? E' andata a fuoco la sede di Forza Italia, davvero, come è potuto essere? Il nostro compagno passava di lì e ha buttato un cerino, un incendio, un altro compagno l'ha passato prima, aveva lasciato una macchina, un guasto, un po' di benzina, è andato tutto a fuoco, per bacco Berlusconi e Berlusconi era lì, che brutta morte, carbonizzato, dice no, no, era su all'ultimo piano, dice, ah e non è morto e bruciato? No, dice, sai che lui si è buttato, ah, al suolo, sfraccellato, dice no, c'erano i pompieri, sai con quei teloni elastici americani e allora dice, è andato giù nel telone, proprio nel mezzo, rimbalzando su 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 e è andato su dall'altra parte, sai che dall'altra parte della piazza c'è l'ambasciata turca, sai quella che è sempre fuori con la bandiera, con quell'asta cuminata, ah che brutta morte, dice, ha impalato la turca, no, no, è andato giù, è arrivato sull'asta, ha fatto leva sull'asta e ha rimbalzato su 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 e poi giù, 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 dice, ha mancato il telone, no, l'ha preso, proprio nel mezzo, dice, poi è andato su 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 su, è andato di lì, sai che ci sono quelle case popolari che sono le ultime nel centro di Roma, dice, oh, morto povero, no, cosa hai capito? E' andato giù, lì stendono i panni e è andato dove, sai, sulle corde che stendono i panni, ha fatto leva, ha fatto elastico e poi su 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 e è andato su e è andato su e poi dopo è venuto giù, 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 dice, disassato, no, l'ha preso ancora nel centro e allora è andato su 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 e è andato in alto e poi dopo è andato giù, 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 è finito sulle linee dell'altra tensione, mamma mia, fulminato, no, ha fatto leva anche lì, è andato giù, giù, è andato su, giù, è andato giù, erano andati via i pompieri, no, erano lì e allora ha preso proprio nel centro e è andato su 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 e allora abbiamo dovuto abbatterlo.